Giocatrice di poker mostra al seno distrarre i rivali, chiedo scusa. Incidente 8 al torneo di poker Max Paimondai. Durante la partita la camicetta della nota youtuber Sashini si aperta. Lasciando intravedere generosi i seni. Per gli altri giocatori un trucchetto per distrarre gli avversari. A distanza di giorni la diretta interessata è intervenuta su Instagram per chiarire la faccenda. Le scuse della giocatrice di poker mi scuso per quello che è accaduto. È facile non accorgersi di quello che sta accadendo quando si gioca. La prossima volta sarò più attenta sulle scelte del mio guardaroba, ha detto Sashimi. Rimarcando che il suo decolleté è tutto naturale e non ha usato delle protesi finte per strategia come insinuato da qualcuno. Virgola.